Il turismo è sicuramente uno dei settori economici più martoriato dagli effetti della pandemia. Nemmeno nel periodo natalizio è stato possibile recuperare. Il solo settore alberghiero ha perso 16 miliardi di euro a livello nazionale, circa l'80% del fatturato. Il 50% dell'agenzia di viaggio Vicentina potrebbe non riaprire il prossimo anno. Chi resiste è costretto a pianificare sul lungo periodo, aspettando il vaccino appena arrivato. Questo potrebbe essere un buon segnale perché la gente è stufa di stare a casa. Vaccino non vaccino è stufa di stare a casa, quindi sicuramente sarà un turismo diverso. Sarà un turismo alla ricerca della cosa particolare, dell'emozione particolare. Siamo pronti, nel frattempo ci continuiamo a formare con webinar, zoom, di tutto di più, per poi quando riapriremo essere al passo con i tempi, perché il nostro settore è un settore in continua evoluzione, soprattutto in questi momenti. E già, nemmeno i fondi previsti dal recovery plan fanno ben sperare. Poco più di 3 miliardi da dividere con la cultura, l'1,6% del totale per un settore che vale il 13% di PIL. Ecco perché gli operatori chiedono di essere maggiormente coinvolti nella pianificazione della ripresa. Vorremmo pensarla insieme alla ripartenza, soprattutto, e questo è il punto focale, più importante del vaccino, più importante delle medicine, da un punto di vista dei protocolli, perché è necessario che ci siano dei protocolli comuni, magari sarebbe un sogno, comuni anche a tutta l'Europa, che consentano al turismo di ripartire anche prima che il Covid sia definitivamente sconfitto. Grazie a tutti.